dominio catturate gli obiettivi stiamo prendendo alfa il nemico ha preso C A sotto controllo stiamo prendendo Charlie stiamo prendendo B ritorno al fronto per il lancio stiamo prendendo C contrattacco UAV online e ricorso in attesa UAV online copra alleato in arrivo stiamo prendendo B stiamo prendendo alfa in sotto controllo abbiamo preso il comando cattivo cattivo stiamo prendendo Contra attacco URB online, sono cechi, andiamo verso A Stiamo prendendo Alpha Stiamo per attivare la prova Ci stanno schiacciando, completate gli obiettivi, Charlie sotto controllo Contra attacco URB online, sono cechi, andiamo verso il comando URB online Missile Predator è pronto per il lancio Missile Predator disponibile Missile Predator è pronto in arrivo URB online Contra attacco URB online URB online Missile Predator è pronto in arrivo Stiamo prendendo Alpha Missile Predator disponibile A sotto controllo Stiamo perdendo Alpha Missile Predator è pronto per il lancio Missile Predator è pronto per il lancio Missile Predator è pronto in arrivo Assolutamente Charlie Missile Predator è pronto in arrivo Missile Predator è pronto in arrivo Mezzo Predator è pronto in arrivo Missile Predator è pronto in arrivo Missile Predator è pronto in arrivo Stiamo prendendo Alpha Contro attacco uomini online, sono ciechi Stiamo prendendo Bravo Bravo sotto controllo Avviciniamo il mio avvicinato Salve Vico rilevato Missile Predator alleato in arrivo Abbiamo preso Charlie Missile Predator alleato in arrivo Warview online Abbiamo preso Charlie Stiamo prendendo Bravo Comra alleato in arrivo Contro attacco uomini online, sono ciechi Stiamo prendendo B Abbiamo preso Charlie Warview online Un avvicinato nemico identificato Un avvicinato nemico identificato Un avvicinato nemico identificato Un avvicinato nemico identificato Grazie a tutti. Grazie a tutti.